Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, ricondivido lo schermo, intanto che attendiamo Armando. Eccomi. Ok, allora, quindi questo è il file sal di report, ok? E quindi in questo canale generale voi avete tutti, diciamo, quello che è stato prodotto il nuovo Tevas 2022, perché prima potevamo accedere al Tevas, cioè il QR code che ci veniva mandato. Sai che non me lo ricordo, training, validation… Vabbè, vabbè, ok, no, comunque è quello. Però questo è un QR code, quando gli dici Tevas e quando dici questionario di soddisfazione per loro è la stessa cosa. Dentro nuovo Tevas, sì, questionario di soddisfazione. Poi loro lo chiamano anche 5 star rater. 5 star rater. Ritorniamo a MB docenti. Ok, come vedete, come vedete, come vedete c'è la manageriale, nel canale manageriale, dentro file ci sono i corsi virtual classroom 2021-2024. Allora, qui c'è il corso Leadership 0031, dove qui ci sono tutti i materiali, che poi qui, archicato umano, non è 0031. Aspettate che vi cambio, ve lo rinomino, se no vi sbagliate. Questo non è 0031. Qui ci sono i materiali della Training Academy, quindi c'è le trainer guidelines, quando vedete PDF, e le slide. Come vedete il corso Leadership è composto dal M0453V, M0455V, M057V e M0458V. Ok? Ok. Poi, il modulo 7 è fatto dal 475, 477, 493. Questi sono i vecchi materiali della Leadership, poi naturalmente il cliente ce li rinnova, quindi è logico che voi trovate più materiali a mebbini. Quindi, questo è il corso per responsabili officine, con le trainer guidelines, che quindi ogni volta che loro ci chiedono un nuovo corso, è importante leggere le trainer guidelines. Poi, è logico che non tutte le cose che sono previste nelle trainer guidelines sono adattabili al contesto italiano, quindi sarà importante poi, insomma, proporre cose diverse. Certo. Ok. E questa è la manageriale. La Sales, quindi siccome comprende i corsi di cinque anni, voi capite che bisogna girarli un po'. Sì, sì, sì. Allora, io però quello che ho detto a Roberto è che io non scompaio. No, no. Perché io fine settembre, cioè, morirò e no, e non risponderò più. No, ma che ribbe. No, no, nel senso che lo ribadisco perché… Eh, grazie. No, ma perché ti dico, io ci ho messo tanto per apprendere questo processo, eh. No, ma mi rendo conto, insomma, è evidente che poi, comunque, insomma, ci lavoravi, non dico a tempo pieno, però, insomma, comunque, sai, è un qualcosa che tu facevi da tanto tempo, quindi hai avuto modo anche di assimilare, di approfondire e di vedere le cose, no? Esatto, poi io un po' sono autistica, quindi… Quando prendo i processi li conosco a memoria. Questo è l'autismo che mi contraddistinto. Però ho detto questo, insomma. No, no, vabbè, ma mi sembra anche la cosa corretta, perché è giusto, no? Cioè, se lo gestisci tu, lo devi conoscere bene, ammenadito, insomma, eh, questo è evidente. Sì, perché è fatto di piccole cose, ecco, questi sono i materiali di sales PC e van, dove ci sono i materiali sales van, che come vedete, qui c'è il product expert van, vi ricordate l'S0576F? Perché una volta i primi li abbiamo erogato in maniera separata, quindi noi siamo entrati prima a fare il product expert van, poi abbiamo formato i passenger cars, poi abbiamo deciso e hanno deciso di unire, no? Visto che era comunque una preparazione, anche se su due tipologie di prodotto diverse, ma comunque abbiamo deciso. Quindi qui trovate la progettazione del product expert van S0576, e poi trovate l'S0631V e l'S0632V, che noi naturalmente eroghiamo. Allora, poi magari ci fate un giro, qui c'è, ci sono i materiali del recap van, ok? E poi qui invece ci sono i materiali dei passenger cars, in particolare i trainer documents del 627. Perché? Perché poi invece per i sales, che si chiamano sales 3.0, alla fine, una volta che si sono stabilizzati, perché abbiamo cambiato spesso, è diventato sales 3.0 una cartella con scritto modulo 1627F, modulo 2 S628F e modulo 3 0629F, ok? Che sono i tre moduli che noi facciamo per i passaggi a scarsa. Dentro il modulo 1, noi abbiamo le esercitazioni. E poi l'ultimo è quello che ho gestito io, solitamente questo modulo lo gestivo io, ok? Il modulo 1, questo S0627F? Sì, questo è un modulo, è quello che si fa in codoscienza, quindi chi va deve sapere che si deve raffrontare con i colleghi, perché questo? Perché il primo giorno i colleghi fanno un lavoro su un project work che i ragazzi devono presentare, dopodiché dividono in gruppi, quindi io devo sapere esattamente quanti gruppi ci sono, come sono andati, perché qui su questo modulo abbiamo aggiunto tutto un processo di gamification deciso con Mercedes, al termine del quale, quindi vuol dire che al termine dei quattro giorni, le persone ricevono un piccolo cadeau, il gruppo che vince riceve un piccolo cadeau, ma questo era solo per motivarli al corso. Il 628, anche questo già rodato, questo solitamente lo fa Serena, lo abbiamo modificato tante volte finché siamo arrivati al modulo standard, e così il 629. Ci sono esercitazioni, slide e video, e qui trovate anche le trainer guidelines. Quale per l'after sales? L'after sales è questo, c'è il corso after sales modulo 2, che è composto dal 193 e dal 195, e poi i corsi base after sales, che sono i famosi 186, 187 e 188. Poi c'è il 192, che è quello di sintesi, e il 198, che è quello sul reclamo. E qui ci sono i materiali che allora ci diedero, più i materiali che sono arrivati nuovi, perché magari hanno fatto delle piccole modifiche, insomma, e quindi ci hanno mandato tutti i fascicoli trainer, anche tradotti in italiano, oltre ai calendari. Più c'è il V0088 Tecnico Service, e il V0099F, che è quello dei venditori di accessori. Lo 00165V è un corso vecchio, ok? Era una vecchia denominazione. Allora, i docenti sanno perfettamente come muoversi. I prossimi docenti sanno esattamente quando è gli assegnata l'aula. Quindi domani Serena sa che deve entrare in aula. Alessia Luciani sa che i primi di ottobre dovrà fare un'aula di V0099F. Paola Annarumi sa che il 10 ottobre deve fare il V00198. Ora, non so poi se tra ottobre e dicembre verranno attivati una nuova edizione di corsi sales, perché noi con domani finiamo, ad esempio, il percorso dei sales, per cui poi devono andare in certificazione. E a novembre finiamo il percorso after sales, per cui poi vanno in certificazione. Ok? Ok. E non so poi se ci sarà un V0088, insomma. Quanti docenti si alternano su tutti questi corsi? Al momento sono quelle che si alternano, sono i soliti, sono sempre. Paola Annarumi, Serena Ricci, Alessia Luciani e Anna Maria Mariani. Ok. Poi, alcuni corsi, tipo il V088V, solitamente l'ho fatto io o Francesca Bracconeri, e lo 0627 a volte l'ho fatto io, ma nella prossima edizione è una giornata in cui non posso esserci, quindi andrà trovato un altro docente. È l'unico corso scoperto con il 192, quelli di novembre sono un po' scoperti. Adesso il 192 ho delle disponibilità di Alessia Luciani, per cui proverò a spostarlo nelle giornate di disponibilità di Alessia Luciani, ma lo 0627 al momento non c'è nessuno. In più, siccome cambierà il referente, forse andrà fatto un minimo di allineamento, non so. Allora, volete che aggiunga qualcosa? Oppure magari fate un giro e poi facciamo un ulteriore step? Sì, su questo, diciamo, proprio sul materiale direi che va bene. Diciamo, ok, ci hai fatto vedere per grandi linee un po' tutto il materiale che c'è a disposizione. Ecco, quello che mi interesserebbe è che tu mi facessi invece una tua job description, cioè nel senso cosa fai nell'ambito... No, nel senso, se mi spieghi un po' tutte le tue attività per gestire tutto, è capito? Io faccio un sacco di cose. No, vabbè, per carità, questo non... No, no, nel senso, faccio un sacco di cose rispetto a Mercedes, perché l'attività è, da una parte, un'attività di relazioni... Cioè, il processo, ecco, se mi racconti un po' il processo... Allora, il processo, io, quando c'è un corso, dipende. Se un corso è in presenza, dipende chi lo inizia, perché, naturalmente, se lo inizia prima a Mercedes, sicuramente io troverò il foglio presenze in aula da far firmare. E se chiudo io, devo avere il QR code. Quindi io, 15 giorni prima, intanto chiedo conferma del corso, perché potrebbe essere che loro non hanno raggiunto le iscrizioni, quindi quel corso io richiedo conferma. A volte, la conferma può arrivare anche una settimana prima. Nel momento in cui io chiedo conferma, gli ricordo anche gli elenchi e il QR code. Se non sono arrivati, il docente sa che deve richiedergli, eh, gli elenchi e il QR code. Perché poi, anche quando è in aula, l'elenco delle firme, noi lo fotografiamo e solo per alcuni referenti, che a volte sono gli after sales, lo inviamo al referente. Se no, comunque, per i sales, insomma, è abbastanza tranquillo. Poi, per le virtual classroom in presenza, io ho l'abitudine, ma sono io, a sentire il docente, sia prima, per fare un minimo di allineamento, perché naturalmente sono corsi che conosco a mena dito, quindi posso dare al docente delle indicazioni specifiche, anche sul tipo di popolazione, perché ormai, insomma, ho imparato a conoscerla, e possiamo eventualmente rivedere se il docente avesse delle difficoltà. E poi sento il docente, naturalmente, a fine aula. Questo sempre. Perché lo faccio? Perché quando vado in sala con il cliente, io devo essere in grado di rispondere a tutte le obiezioni, sia positivi, cioè a tutte le obiezioni, o a tutte le indicazioni che il cliente dice, sia in termini positivi, quindi io devo sapere quel numero, perché lo abbiamo ottenuto, e se c'è una discesa, come in quel caso il 4,7, io devo giustificare il perché. E naturalmente questo mi permette poi di confrontarmi con i referenti Mercedes. Naturalmente la Training Academy ha un obbligo di non scendere sotto il 4,8. Questo non significa che se noi abbiamo 4,7, 4,6, è un dramma. No, perché poi i corsi possono avere mille sfaccettature. Però ecco, io sento sempre il docente per sapere come è andata e per avere un feedback anche della gestione. Anche per supportarlo eventualmente su criticità, per confrontarmi con lui su alcune cose. Quindi questa è una cosa che io ho impostato così. Ma non è detto che debba essere così. Ho visto che alcuni magari non lo fanno, il docente chiama solo se ha delle difficoltà. Io ho preferito fare così. In più, quando c'è un corso nuovo, naturalmente noi non solo lo co-progettiamo noi, poi io solitamente mi interfaccio con il referente della Training Academy, glielo mostro, e eventualmente facciamo delle modifiche. Quindi lo co-progettiamo insieme. Soprattutto poi se è una co-docenza, perché nella co-docenza dobbiamo definire, a maggior ragione, quali saranno le responsabilità di ognuno, perché saremo presenti e non è che ognuno parla quando gli pare. E quello che faccio poi è, al termine di ogni prima giornata, di un primo corso nuovo, è quello di risentirmi con il referente della Training Academy ed eventualmente andare a fare un fine tuning sul corso. Ad esempio, nell'ultima sal sul Product Expert, con il referente, proprio con il loro capo, ci siamo detti che forse il Product Expert avrebbe bisogno, invece che due giornate, di farne due e mezzo, dove la mezza giornata in più dovrebbe essere dedicata solo a fare il role play. Questo è il risultato della sal che abbiamo fatto. e di alcune indicazioni che erano emerse dai questionari, per cui, insomma, il referente ha detto ma forse potremmo fare anche così. Quindi questo è quello che faccio. Naturalmente mi assicuro che il foglio firme sia arrivato in Training Academy e che non sia rimasto in aula perso. Perché? Per questo mi faccio mandare sempre la foto. Perché naturalmente quelle presenze per la Training Academy sono importanti al termine dei pagamenti, non tanto nostri, ma dei pagamenti delle concessionarie. Quindi è un lavoro che noi dobbiamo assicurarci di fare. Anche per loro mi viene da dire. E questo è quanto per le presenze. Per l'online è un pochino più delicato. Perché? Perché l'online io mi occupo in questo momento di fare i link su piattaforma Webex di cui noi abbiamo due account. Quindi noi possiamo fare due aule in contemporanea Webex. Non di più, attenzione, se eventualmente ci accorgiamo che ci hanno assegnato tre aule in contemporanea su Webex, non siamo in grado di reggerle. Quindi, o diciamo di passarla al giorno dopo o il giorno prima per tempo, oppure dobbiamo in qualche modo chiedere a loro se ci assegnano loro un link. Perché? Perché per la manageriale i link di Webex li facciamo noi. Per la manageriale, per Digital Transformation e per MbWay i link li facciamo noi. Per invece i corsi online il V0088V non lo facciamo noi il link ma lo fa il cliente e ci manda il link. Quindi, per i corsi online noi dobbiamo fare due cose sostanzialmente. fare il link farci dare gli elenchi inviare il link ai partecipanti che sono in elenco almeno un giorno prima anche due giorni ma assicurarci che la mattina loro ricevano il reminder del link. il docente deve prendere le presenze e noi dobbiamo restituire le presenze a Mercedes. In questo caso io per i corsi comportamentali restituisco il link e le presenze a Andrea Floristi, Aiche Schlesnas e Fabrizia Cionni. Aiche e Fabrizia sono le referenti diciamo gestionali dei corsi. E questo è quanto. Queste sono le cose che faccio. Quindi è un lavoro non solo gestionale ma anche relazionale. Ormai io con loro c'è un rapporto di reciproca fiducia conquistato nel tempo perché all'inizio non era così. Adesso se io gli dicessi guarda questa cosa invece di farla così la facciamo in altro modo loro si fidano. All'inizio insomma non era proprio così. E soprattutto noi all'inizio avevamo a volte basso il fatto che non riuscivamo a parlare della loro realtà. Quindi la prima banditura se vogliamo la prima gara siamo stati quindi abbiamo lavorato tanto oltre ad aver lavorato anche con le persone che fanno l'assessment quindi noi abbiamo fatto anche degli incontri con chi fa l'assessment chi gestisce l'assessment con la società che gestisce l'assessment così come abbiamo fatto incontri con Ernest e Young per capire tutto il processo di digital transformation cioè incontri intersocietari li abbiamo fatti un po' promossi da Mercedes a volte per la maggior parte promossi da Mercedes ma anche promossi da noi le codocenze nascono da noi da noi e dal precedente referente after sales quindi abbiamo un po' fatto questa scommessa abbiamo fatto i primi corsi abbiamo visto che funzionavano e portavano bei risultati li abbiamo poi generalizzati su alcuni anche perché il corso in codocenza costa doppio a Mercedes costa per il trainer interno e per noi quindi è un risultato che abbiamo ottenuto ok mentre diverso è MB ci sono due progetti speciali MB digital transformation kickoff che comunque dovrebbe chiudersi il 12 ottobre a meno che non chiederanno delle sessioni di recupero e non è detto che tutte quelle fino al 12 ottobre siano confermate e poi abbiamo MBWay al momento per MBWay siamo arrivati ad erogare l'ultima aula il 12 settembre che era scusate il 12 settembre che era un'aula di MBWay manageriale MBWay che cosa Mercedes-BenzWay eh sì sì ma di che cosa parla allora MBWay in realtà non è lo stesso Renault Way è un po' simile però nel senso che è simile nella logica ok allora nel senso che Mercedes vuole diventare un marchio di lusso quindi poi sarà importante che in alcuni percorsi man mano anche alcuni spunti siano accelerati su questo fattore del marchio del lusso perché loro vogliono diventare un marchio del lusso naturalmente rispetto a questo ci sono due percorsi uno per gli operativi e uno per i manager gli operativi c'è un e-learning il workshop e poi c'è un video feed che gli operativi devono fare che rappresentano le sette regole di Mercedes-BenzWay ogni regola poi ha degli indicatori anche ha dei principi ogni principio ha dei comportamenti ok è un classico insomma esatto quindi è simile per cui per me era come sguazzare nell'acqua camera insomma conoscendo quella di struttura infatti questo qui è rivolto solamente alla rete o anche a tutto il personale no dovina un po' è rivolto a tutti eh ok va bene allora è rivolto a tutti questo vuol dire che tutti fanno lo stesso workshop magari qualcuno l'ha fatto un po' diverso però nella sostanza quindi le informazioni devono essere passate a tutti con una differenza che i manager non hanno il video feed dopo il workshop ma hanno gli impulsi che vuol dire hanno un percorso Mercedes-BenzWay da fare con i loro collaboratori perché la regola è migliorare almeno dell'1% ogni giorno quindi non è qualcosa a cui ci arriveremo domani è qualcosa in cui arriveremo con il tempo mi sembra corretto ok quindi ci sono gli impulsi e ci sono delle schede che in realtà è già partito questo progetto questo sì è partito praticamente da giugno è partito da giugno sono state erogate insomma una serie di edizioni tra noi noi siamo a supporto della Training Academy quindi noi abbiamo erogato alcune edizioni io in particolar modo ho erogato anche le due manageriali che ci sono state assegnate perché perché la Virtual Classroom per gli operativi è una Virtual Classroom di due ore e mezza per i manager è di tre ore divisa in due Virtual Classroom in una stessa giornata un'ora e mezza al mattino un'ora e mezza al pomeriggio ok ma perché io poi ho fatto anche affiancamento con Andrea per cui ho erogato io la manageriale perché l'ho vista io sostanzialmente certo e anche su diciamo su Teams c'è anche questo materiale oppure questo fa parte allora per questo no per questo ti devo vi devo unire a un altro team perché c'è il team MBWay ah quindi specifico grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.